buongiorno a tutti siamo qui alla partenza del giro d'italia da torino diamo il benvenuto a susanna santon amministratore della germo di milano e buongiorno a tutti la nostra è un'azienda che produce disinfettanti dal 1956 è solo da pochi anni che abbiamo deciso di promuovere il marchio germo ed è per questo che abbiamo accettato con entusiasmo la proposta e siamo qui oggi alla partenza del giro d'italia con la squadra androni giocattoli sidermec da 65 anni forniamo disinfettanti per tutti i settori dal settore ospedaliero al settore professionale fino ai prodotti per la casa in questa occasione forniamo tutta la squadra tutto il team e ai corridori disinfettanti per garantire la sicurezza durante la corsa rosa molti prodotti che forniamo sono di utilità quotidiana come disinfettanti per la cute il gel il sapone disinfettanti per le superfici per le attrezzature fino ai prodotti per la cura e la disinfezione delle divise e del boccato susanna ce lo dice lei come mai abbiamo scelto germo come prodotti per la disinfezione penso che ci abbiate scelto perché abbiamo un'ampia gamma di prodotti e molta esperienza nel campo della disinfezione scegliere un disinfettante è una garanzia perché i nostri prodotti sono testati da laboratori certificati e autorizzati dal ministero della salute dobbiamo essere molto sinceri prima di conoscere germo non abbiamo mai posto molta attenzione ai prodotti che acquistavamo ci può spiegare cortesemente la differenza tra disinfettante e igienizzante certo molto volentieri la parola igienizzante è stata negli ultimi anni indiscriminatamente utilizzata dai produttori di detergenti e questo ha creato molta confusione un igienizzante pulisce soltanto non ha un'efficacia comprovata dai dei test invece i disinfettanti della germo detergono ed eliminano sottolineo eliminano germi e batteri contemporaneamente questa è una differenza sostanziale adesso che ve l'ho spiegato è molto chiaro chiarissimo ma adesso siamo in ottimi mani con i prodotti germo non avremo mai più nessun tipo di problema non non Grazie per la visione!